Ciao amici di FUN TV, questa sera ci troviamo a Lesley City, in via Bamba numero 7, let's go party! Ciao ragazzi, nomi? Andrea? Federica? Allora ragazzi, vi piace il nuovo Enesi City? Sì, bellissimo! Un sacco! Frequentavate già l'Enesi che c'era in collina? Ogni tanto sì! Quando eravamo più piccoli, con le manifesti, spesso e volentieri! Quale di due preferite di più? Ovviamente questo! Questo! Ora andiamo a curiosare cosa pensano i nostri amici dell'Enesi City! Vi piace l'Enesi City? Molto bello! Ci sta divertendo? Sì! Fate un saluto agli amici di FUN TV! Evviva il FUN TV! Ragazzi, conoscete FUN TV? Sì! Sì! Allora, fateli un grande saluto ai nostri amici di FUN TV! Ciao! Ciao ragazzi, venite tutti qua all'Enesi!